chiyo e sua sorella maggiore satsu vivono a yoroido vengono portati a john da lord becku dove satsu viene venduto a un bordello e chiyo ha uno kia una casa per geisha chiyo diventa una geisha l'arrogante azumono altra potente geisha nota il potenziale di chiyo e la riduce al rango di serva rendendolo impossibile diventare nuovamente geisha ma chiyo riesce ad attirare l'attenzione della famosissima geisha mameha che azumono disprezza perché superiore a lei in ogni aspetto mameha adotta chiyo come tirocinante la prepara a competere contro azumono chiyo inizia il suo apprendistato con mameha ricevendone un nuovo nome sayuri sayuri e mameha distruggono completamente la reputazione di azumono che viene espulsa dall'okia sayuri vende la sua e diventa una geisha di successo inizia però la seconda guerra mondiale tutto diventa irrilevante la sua bellezza fisica passisce a causa del lavoro e della mancanza di cibo le circostanze spingono chiyo a unirsi a nobu che salva chiyo o sayuri dalla durezza della guerra a condizione che in seguito gli permetta di essere sua il desiderio di sayuri di essere libera la mette in cerca del proprio destino fonda quindi una casa da te per imprenditori giapponesi a new york